Sì, sì, finalmente, 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 finalmente abbiamo vinto, finalmente, grande Lecce, grande Lecce, grande, grande Lecce, finalmente, allora, sofferenza pura anche questa volta, sofferenza pura. Allora, prima di parlare della partita, vi chiedo il favore di iscrivervi al mio canale, di mettere tanti mi piace a questo video e agli altri video e commentate, commentate, scrivete quello che pensate della partita, scrivetelo. Allora, finalmente, ritorniamo alla vittoria, una vittoria soffertissima, soffertissima, primo tempo fantastico del Lecce, fantastico, 1-0, andiamo negli spogliatoi, riprende la partita, giochiamo bene e sprechiamo tantissimo, abbiamo sprecato tantissimo nel primo tempo e anche nel secondo tempo abbiamo sprecato, sprecato, sprecato tantissimo, tantissimo. Poi dopo è uscita la Fiorentina, ha fatto prima il pareggio, passata in vantaggio per 2-1, il Lecce non si è spento del tutto come magari ha fatto nelle altre partite, ha continuato a giocare, meno, finalmente, finalmente ha messo le due punte, finalmente, mister, avrai visto i miei video, quindi mi hai ascoltato, finalmente, finalmente, abbiamo messo le due punte e siamo andati a vincere la partita, finalmente, bisogna cambiare questo modulo, bisogna cambiare il 4-3-3 e cosa è successo? Abbiamo vinto la partita con Cristovic e Piccoli, Piccoli che fa il gol del 2 pari e dopo neanche un minuto 3-2 del grande Dorgu, questa volta cambi azzeccati. E non dico azzeccati perché hai fatto i cambi e Piccoli è entrato, ha fatto il gol e Dorgu è entrato perché ha fatto il gol e abbiamo vinto la partita 3-2, ma questi sono i cambi azzeccati perché non hai tolto Cristovic per mettere i piccoli, Cristovic stava facendo una bella partita e li hai messi insieme. Banda aveva dato tanto, quindi era molto stanco, in più era stato ammonito, quindi giusto cambiarlo con Sansone, che Sansone per me deve sempre subentrare e non entrare da titolare. E poi hai messo Dorgu, perché Dorgu è uno che può spingere molto di più di Gallo, infatti siamo andati a vincere la partita, finalmente abbiamo vinto una partita e si può respirare, è una partita importantissima, abbiamo vinto una partita importantissima. Voglio fare i complimenti a tutti, a tutta la squadra, a tutta, forse trovare un insufficiente o un flop è difficile oggi, è difficile, forse, forse darei un 6- a Caba, ma un 6-, un 6-. C'è visto Blen, finalmente Blen è molto importante, soprattutto al centrocampo, è molto importante e ultimamente non lo stavamo vedendo, ultimamente non lo stavamo vedendo e finalmente abbiamo vinto una partita. Una sofferenza che, guardate, quando siamo andati in svantaggio per 2-1 stavo per spegnere la televisione, stavo per spegnere la televisione perché ho pensato dentro di me, di nuovo, di nuovo, un'altra partita buttata al vento. Un'altra partita buttata al vento. Invece, per fortuna, mi devo rimangiare tutte quelle parole che stavo dicendo durante il secondo tempo. Finalmente, finalmente abbiamo vinto, si può respirare un pochino, ma soprattutto, soprattutto, si è visto un po' di carattere della squadra anche nel secondo tempo. E non solo nel primo tempo, perché di nuovo è stato un primo tempo fantastico, dove abbiamo sprecato tantissimo e poi dopo, nel secondo tempo, c'è stato un pochino che siamo calati un pochino, però poi dopo ci siamo ripresi. Cambi fatti bene, ma ci siamo ripresi. Però, ragazzi, dobbiamo cercare di concludere prima la partita. Non si può sprecare così tanto, perché davvero è pericoloso, è pericoloso, perché nel primo tempo potevamo fare altri due golle, oltre il gol dell'1-0 che abbiamo fatto. Infatti, poi, la Fiorentina è uscita fuori da grande squadra, che ha fatto l'1-1, ha fatto anche il 2-1 ed è andata anche vicino a fare il 3-1. Poi dopo, con i cambi, ripeto, con i cambi fatti bene, mettendo le due punte, cambiando il 4-3-3, siamo riusciti prima a pareggiarla e dopo a vincerla. Sì, sì, a vincerla, finalmente. Adesso, vediamo cosa fanno le altre, tra domani e dopo domani. Possiamo guardarci le partite con un po' più di tranquillità. Speriamo che vadano bene e quindi questi punti, questi tre punti di oggi, valgono veramente a tanto, quindi ad allontanare di più quella zona rossa alla quale ci stavamo avvicinando molto. Andiamo a dormire sereni, finalmente andiamo a dormire tranquilli. Vi auguro a tutti una buonanotte, forza Lecce, godiamoci, godiamoci questa vittoria perché è davvero importante. Grazie per l'attenzione e mi raccomando, commentate perché voglio sentire quello che pensate voi. Forza Lecce! Grazie per l'attenzione e mi raccomando.